Buongiorno, sono il dottor Zanna, sono medico chirurgo e mi occupo di chirurgia orale e maxillofacciale da oltre 30 anni. La poltrona barra lettino operatorio che possiamo vedere da un punto di vista estetico, ovviamente tornando appunto all'aspetto estetico, ha sicuramente la sua grossa valenza. Vediamo quindi appunto come dal punto di vista della resa estetica l'acciaio inox sia estremamente efficace, tutta la struttura è costruita in acciaio inox e la seduta, la poltrona ha uno sky che è perfettamente igienizzabile. Ovviamente anche questo ha ben evidenti tutte le sue caratteristiche di notevole ricerca estetica. La poltrona è dotata di quattro motorizzazioni che permettono quindi assolutamente una grandissima versatilità di posizionamento del paziente e questo aiuta enormemente ovviamente il chirurgo. Abbiamo la possibilità quindi di movimentarla sia in senso verticale con alzata e discesa, sia con un joystick a pedale che con un telecomando. Vediamo quindi le possibilità di azione che abbiamo appunto movimentando la poltrona con il comando. Abbiamo la possibilità in maniera molto semplice e rapida di trasformarla completamente in lettino operatorio. Un altro aspetto molto importante è quello che l'alzata del letto operatorio barra poltrona può raggiungere il metro d'altezza. E questa è una caratteristica estremamente importante, cosa che ovviamente con i riuniti odontoiatrici generici non è possibile raggiungere, perché sono poltrone che raggiungono mediamente gli 80 cm, non più di 80 cm. Questi 20-25 se non 30 cm a volte di differenza, francamente possono giocare la loro parte nella comodità e nell'ergonomia in sede intraoperatoria, specialmente quando il chirurgo, come ad esempio per il sottoscritto, è abituato a operare in piedi, prima cosa. Secondo, quando il chirurgo, e non è il mio caso, invece è particolarmente alto. Altro aspetto abbastanza importante è quello che la movimentazione in verticale è perpendicolare alla pavimentazione, quindi questo ci permette di non dovere ogni volta che spostiamo anche leggermente la posizione del paziente, andare a compensare con dei movimenti delle lampade, delle sciaditiche o quelle che abbiamo a disposizione, ed eventualmente anche dei carrelli a disposizione. Ha una certa rilevanza anche un altro aspetto che riguarda prevalentemente il discorso di pulizia e di igienizzazione, il fatto che il letto operatorio è sollevato dal pavimento e quindi dà la possibilità di una pulizia e di igienizzazione anche al di sotto dello stesso. Oltretutto esiste anche una versione con ruote, per cui il letto operatorio può essere anche movimentato in senso trasversale, quindi ruotato a seconda delle esigenze dell'operatore e anche a seconda dell'ergonomia, intervento per intervento, a seconda della frequenza in sala operatoria, della presenza in sala operatoria di un team più o meno nutrito. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.